Un faro di speranza perché ha il coraggio di dire no ai poteri mafiosi. Ecco che cosa rappresenta ancora oggi la figura del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. La sua storia è raccontata in maniera dettagliata nel film 100 giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara, che l'associazione 100% in movimento di Piacenza ha proiettato alla biblioteca di strada dell'Infrangibile, proprio per rendere omaggio al generale, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, uccisi a Palermo nel 1982 da un attentato mafioso. Il primo insegnamento che ci lascia, che per noi è davvero un faro, è che bisogna fare il proprio dovere, sempre e comunque. Anche quando lo stesso Stato lo ha isolato e non gli ha dato i poteri che gli aveva promesso, lui ha continuato, perché pensava che la dignità umana sta proprio in questo, nel fare il dovere sempre e comunque. Proseguiranno nei prossimi mesi le attività di sensibilizzazione da parte dell'associazione, sempre incentrate sulla cultura antimafiosa. Abbiamo intenzione, se riusciamo a fine mese, comunque entro ottobre, di fare una piccola pesca benefica di autofinanziamento, perché adesso iniziano le scuole e quindi abbiamo assolutamente necessità di avere un piccolo fondocassa. E l'altra importante iniziativa sarà in ottobre con delle ospiti femminili che sono degli esempi nella lotta alla mafia al femminile.